Bentornati in studio, prima adesso la parte della rassegna stampa dedicata alla Capitale, in particolare partendo dalla sezione romana di Repubblica che apre con Market, H24 e Fast Food, l'assalto degli stranieri alle vie del commercio, polemica per i due McDonald's in pieno centro, radiografia di un fenomeno e il 20% delle botteghe storiche ha ceduto, bengalesi primi oltre 12.000, il commercio cambia faccia e lo fa dal giorno alla notte con saracinesche che aprono e chiudono, botteghe storiche che scompaiono, nuove realtà che nascondono, a dire addio sono le glorie del passato, secondo la CNA degli ultimi 10 anni, le attività artigiane e dei settori più tradizionali si sono ridotte del 37% sostituite da giovani milioni provenienti soprattutto dai paesi lontani, il dato più significativo per spiegare il fenomeno lo fornisce la Fondazione Moressa, nell'ultimo anno a Roma le imprese gestite da italiani sono diminuite del 3,5%. E poi le paninoteche e la città stracciona, risale e pochi giorni fa la notizia dell'apertura di un fast food a pochi metri dal colonnato di San Pietro, l'annuncio ha scatenato una serie di sacrosante reazioni, il motivo è presto detto, nelle aree tutelate come Borgo, patrimonio dell'umanità, ho vietato trasferire una licenza da un locale di cucina tradizionale a uno di cucina straniera come McDonald's appunto. E poi lo scempio del centro non è solo McDonald's a Borgo Pio o dietro Piazza Navona, è senza dubbio nel posto sbagliato, ma è il suo posto giusto? Ma qual è il suo posto giusto? Stazioni, aeroporti, centri commerciali, tutti non luoghi che non hanno paura di essere snaturati, non avendo per definizione una propria natura, potremmo accordarci così, tutti i fast food vengano sistemati nel vuoto semantico dei non luoghi. E poi la fotonotizia che riguarda all'attrice al Festival del Cinema, Red Carpet, Claudia Cardinale, io come Totti star per caso. Claudia, guarda qua, girati con un sorriso un altro, ancora una foto, lei con gli occhioni neri bellissimi come sempre sta al gioco e davanti alle sue gigantografie si fa inondare dalla pioggia dei flash e nella sala expo del Parco della Musica è subito Red Carpet, potere delle dive, potere di Claudia Cardinale che anche alla festa del cinema ha consegnato il premio alla carriera a Tom Hanks. E poi una notizia che invece riguarda i rifiuti, tariffa su misura grazie al chip, microchip nei cassonetti oppure nei sacchetti della spazzatura, la giunta regionale sta per varare nuove regole per la tariffa puntuale differenziata proporzionata ai consumi, ogni utente pagherà in base alla quantità di spazzatura prodotta e saranno premiati i comportamenti virtuosi tra una ventina di giorni, racconta l'assessore regionale all'ambiente Mauro Buschini, porterò in giunta la delibera. E poi in taglio basso cade l'ostia, scoppia la bagarre, cade l'ostia la raccoglie e la mette nella borsetta, dietro di lei però qualcuno ha notato il gesto e la cresima di 80 ragazzi si trasforma in una bagarre tra fedeli, teatro dello scambio di accuse, la parrocchia di Santa Francesca Caprini in piazza Massa Carrara nel quartiere in piazza Bologna. Al momento dell'eucaristia però una ragazza ha preso in maniera goffa l'ostia con le mani facendola cadere a terra, a quel punto è scattata l'insurrezione dei fedeli, devi mangiarla, darla a me, l'ostia è consacrata, non si può riporre in un fazzolettino come una gomma da masticare, ha inveito una donna che era qualche panca dietro di lei, la ragazza intimorita è scoppiata a piangere e la madre ha cercato di difenderla, ne è nato un litigio, non me ne sono accorto ma vari parrocchiani me l'hanno raccontato a fine messa, spiega padre Franco Messori, quando cade l'ostia è il sacerdote che deve raccoglierla e mangiarla ma probabilmente con quella confusione non se ne è accorto. Prosegue il parroco di Santa Francesca Cabrini, ottocerto circa le persone presenti, molti dei partecipanti a queste celebrazioni spesso non sono cristiani praticanti e quindi non sanno come comportarsi in certi frangenti, sottolinea padre Messori, ma si tratta di che possono capitare a tutti, litigare non è certo la soluzione migliore. Passiamo ora alla parte di sezione romana dedicata dal Corriere della Sera che apre con San Pietro Cardinali contro il fast food. Lettera al Papa nel palazzo dove abitiamo in arrivo McDonald's la rivolta dei residenti, il malumore per un contributo su una canna fumaria, la sala stampa della Santa Sede e nessun addebito ai porporati. Il caso McDonald's arriva in Vaticano dopo le proteste dei residenti anche i cardinali che nel palazzo della Santa Sede a pochi metri da San Pietro sarebbero indignati e per l'arrivo del fast food è uno dei porporati avrebbe scritto al Papa. A causare malumore una lettera con la richiesta di contributi per i lavori di ristrutturazione ma la sala stampa vaticana assicura nessun addebito ai cardinali. E poi il Narcos è un attore di Cesare deve morire, traffico di droga, 11 arresti dalla DDA. Un'avanguardia Narcos che comunicava su Facebook e coltivava nella cinematografia trafficanti che militavano nel traffico internazionale di stupefacenti, cocaina e anfetamine e in contemporanea erano inseriti in programmi di recupero dei detenuti. Sono i protagonisti dell'ultima retata eseguita dalla DDA a Capitolino assieme al Gico di Polizia Tributaria. Fra questi anche Giovanni Arcuri, attore protagonista di Cesare deve morire, dei fratelli Paolo e Vittoria Taviani, film premiato con l'Orso d'Oro al Festival di Berlino. L'inchiesta è stata eseguita in collaborazione con gli investigatori del Belgio, Olanda e della Spagna. E poi la fotonotizia della sindaca Raggi con l'assessore Luca Bergamo. La sindaca è lo show su Red Carpet alla Festa del Cinema. Inaugurata ieri sera la Festa del Cinema all'Auditorium su Red Carpet. Tra attori e protagonisti della rassegna e ospiti illustri c'è anche la sindaca Virginia Raggi con l'assessore capitolino alla cultura Luca Bergamo. La manifestazione si concluderà il 23 ottobre quando sarà ospite Roberto Benigni. Taglio basso invece pare di il Picasso che non verrà a Roma. Effetto divisione tra Palexpo e Scuderie del Quirinale dove l'opera gigantesca non entra. appunto questo quadro che nel 1954 la celebre gigantesca opera si pari del genio di 17 metri stava per entrare nel patrimonio della Galleria d'Arte Moderna ma l'acquisto fu rifiutato dal Ministero. Nell'anno 2017 invece avrebbe dovuto essere il pezzo forte della mostra ma alle Scuderie del Quirinale non entra. È troppo grande e al Palexpo dove era prevista non si può più. Si vedrà quindi a Napoli. E dopo questa notizia passiamo ad alcune notizie della capitale dal web in particolare riprese dal sito del messaggero.it. La prima riguarda appunto il tribunale. Era alla base dello spaccio. Arrestati un avvocato ed un attore. Caottici e sicuri, perfetti per discutere di qualunque affare. Il bar del tribunale penale di Piazzale Clodio e la sala avvocati erano diventati il quartier generale di un'organizzazione specializzata nel traffico internazionale di stupefacenti e che è stata fermata poco prima che riuscisse a portare nella capitale una partita di droga di 140 kg. E poi invece, falsi invalidi a Roma, la cieca prende la pensione ma vede le scadenze dei prodotti del supermercato. In tasca per 5 anni la pensione di invalidità ma ci vede benissimo. Tanto da leggere le etichette dei prodotti del supermercato o attraversare da sopra la strada. La polizia municipale del decimo gruppo mare guidata dal comandante Antonio Di Maggio ha scovato a Ostia una falsa cieca. L'operazione è scattata nelle scorse settimane dopo due mesi di appostamenti. E poi invece una notizia che riguarda un suicidio. Si suicida a 23 anni per gli insulti del ragazzo. Ora la procura vuole processarlo. Una relazione malata è una ragazza bellissima che a 23 anni si distrugge poco per volta. È soggiocata da un compagno violento che la picchia, la insulta e la umilia. La obbliga a ingrassare di 20 chili, la convince a consumare droghe. Ora lui è finito sul banco degli imputati per istigazione al suicidio e cessione di stupefacenti. Questa è una tragica notizia. E poi ancora Roma, pestato dal branco sulla metro, uno degli aggressori torna a casa. Le telecamere di sorveglianza della metro B lo rivedono in volto mentre spinge Maurizio di Francesca Antonio colpevole di aver detto a lui e ai suoi amici di smettere di fumare sul vagone. Ora Luigi Riccitiello, finito in manette per tentato omicidio insieme agli amici Antonio Senneca e Gennaro Riccitiello, è uscito di prigione ed è tornato a casa. E con questa notizia il tempo a nostra disposizione finisce qui. Io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi lascio ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.